Nello specifico Avvenire ha pubblicato un bellissimo articolo che è un'intervista a Cosimo Accoto, Cosimo Accoto che abbiamo avuto il piacere di avere in trasmissione insieme a Micol per parlare del suo libro che è uscito proprio in queste settimane, ma io voglio partire da una riflessione che voglio mettere sul tavolo che è quella che lui riporta all'interno dell'articolo non è una nuova fuga dal mondo ma una sorta di nuovo sbarco dell'umano nel nostro mondo e questo è come dire un bellissimo modo per approcciare il cambiamento che è nato in questo momento anche perché è stata la risposta ad una domanda che è cosa significa terraformazione che nello specifico significa in teoria andare a portare la nostra vita su altri pianeti riproducendo i meccanismi e le logiche che noi viviamo su questo pianeta invece lui ha cambiato la prospettiva nel corso degli anni nel corso del tempo e nel prossimo futuro ancora di più non ci sarà una terraformazione nel senso che l'umano si integrerà in maniera diversa con quello che è il nostro pianeta terra. Poi nell'articolo e chiedo appunto a Micolo un po' anche di suggestione che sono arrivati anche dall'intervista fatto con Cosimo si tratta un po' questo mondo che viene sempre più simulato all'interno di sistemi tecnologici e simulazione che poi diventa realtà ma a questo punto è la realtà che diventa simulazione e la simulazione che diventa realtà qual è la commissione tra queste due grandi dimensioni per cui stiamo diventando quello che la simulazione ci sta proponendo? Devo dire che il confronto con Cosimo Accotto è un confronto interessante perché porta il tema dell'umanismo, della ricerca filosofica e di come la filosofia poi in generale possa spiegare anche la contemporaneità quindi con un approccio anche molto diverso da quello che viene fatto scolasticamente che è più storia della filosofia. Quindi è un invito in generale ad applicare quando parliamo di questi temi e un po' quello che stiamo facendo in questo momento a vederne nelle prospettive. Tornando a quello che tu dicevi effettivamente lui si pone quella domanda ma fa capire come in realtà non c'è niente di più reale della simulazione, nel senso che la simulazione fa anche parte della nostra esperienza perché noi viviamo nel nostro mondo che è in realtà una percezione del mondo reale e quindi in realtà è come se noi stessi fossimo nei nostri metaversi giornalmente perché non è il mio mondo non è quello di Stefano, non è quello di Marcella e sicuramente non è neanche quello di Michele, ognuno ha il suo. In questo però proprio la sfida che lui sottolinea è quanto possa essere importante trovare una dimensione umana in questi mondi così tecnologici e come, come diceva lo stesso Michele, riportare quella dimensione tecnologica del metaverso nel nostro mondo anche per migliorarlo, fa degli esempi anche che possono sembrare semplici come l'utilizzo per esempio di manichini all'interno dei crash test, cioè noi abbiamo sempre usato la simulazione anche nel nostro mondo reale prima del metaverso, si tratta di applicare quel mindset a quello che stiamo facendo in questo momento. Certo non è facile come diceva Marcella, ma poi noi in quel mondo lì come realmente vivremo? Non lo sappiamo, l'unica cosa che possiamo fare è farci delle domande in questo mondo. Indagare molto il fenomeno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.